Lettura del Vangelo secondo Matteo In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Pace bene, amici, e ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento con la liturgia festiva, secondo il rito ambrosiano, ottava domenica dopo Pentecoste. Il Vangelo odierno ci presenta una duplice chiamata da parte di Gesù nei confronti di due coppie di fratelli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni. Ma anche la prima e la seconda lettura sono racconti vocazionali del profeta Samuele, prima lettura, e di Paolo nella seconda. Quali sono le caratteristiche che noi possiamo evidenziare in questi racconti vocazionali, in modo particolare del Vangelo odierno? Innanzitutto, Gesù, la prima cosa che il Signore fa è radunare attorno a sé dei discepoli, come era consuetudine per i rabbini del tempo. Ma ci sono delle peculiarità che troviamo nella vocazione, nei racconti vocazionali evangelici, rispetto alla consuetudine dei maestri del tempo di Gesù. Innanzitutto, Gesù è lui che chiama, diversamente da come succedeva ai suoi tempi. Era il discepolo, l'alunno, che veniva poi a mettersi alla sequela del maestro. Una seconda caratteristica è che a un certo punto il discepolo diventava lui maestro in Israele. Nel caso di Gesù, della prima comunità cristiana, i discepoli sono chiamati a seguire sempre e unicamente il maestro, che si presenta come persona. Certo, Gesù insegna tante cose, insegna la verità, però è lui che è la via, la verità e la vita. Un'altra caratteristica che troviamo in questa chiamata è la prontezza con la quale Pietro, Giacomo, Giovanni rispondono di sì. Innanzitutto, il Signore li chiama dove? Li chiama mentre stava passeggiando sul lago di Galilea, li chiama mentre loro stavano esercitando il loro mestiere, la loro professione di pescatori, gettavano le reti e riparavano le reti, li chiama così dentro una situazione normale di vita. e questo è molto importante da evidenziare, da tenere presente. Poi notiamo che l'esigenza radicale di Gesù si distingue un po' da quella che era la consuetudine del tempo, perché di fatto gli apostoli abbandonano tutto. Pietro era anche sposato, con famiglia, aveva una suocera, quindi si presuppone fosse sposato e gli altri lasciano tutto, abbandonano quello che è la loro professione per seguire Gesù. Ecco, questi aspetti diventano per noi illuminanti, perché ci impongono un esame di coscienza. Anche noi siamo chiamati. La chiamata, il tema vocazionale, non riguarda soltanto i preti, frati, le suore e i missionari, perché Gesù chiama tutti, ognuno, ciascuno a suo modo, in un modo personalizzato. Ecco, allora ci chiediamo se noi siamo sempre pronti a seguire Lui, non tante verità, tante idee, ma se abbiamo veramente fiducia nella sua persona. Magari tanti anni fa, quando abbiamo cominciato a credere sul serio, eravamo più disponibili ad un'accoglienza, a osservare quelle che sono le esigenze radicali della chiamata. Adesso, magari, cammin facendo, col passare del tempo, il nostro seguire Gesù è diventato un po' pigro, un po' lento, un po' preso da, o meglio, scambiato per tante cose che ci ritroviamo a fare. Invece Gesù chiama, chiama sempre, e chiama dentro la nostra normalità di vita. Per Samuele nel sonno, per Paolo mentre era sulla via per Damasco, per gli apostoli mentre facevano il loro lavoro, esercitavano la loro professione. Cioè, nella quotidianità, sempre Dio chiama. Si tratta però di mettersi in ascolto della sua voce. E il mettersi in ascolto della sua voce significa non permettere che la distrazione, la dissipazione, la frenesia nel fare le cose schiavizzi, ci schiavizzi in modo tale da non lasciare spazio per altro. Occorre un silenzio fiducioso nei confronti di Dio che parla sempre e ci guida e ci sostiene con la sua parola. La voce del Signore comporta da parte nostra una accoglienza fiduciosa. E allora chiediamo a Lui che si faccia sempre sentire, ma chiediamo a Lui anche la forza di seguirlo e la disponibilità ad ascoltare la sua voce, che è una chiamata, una voce che ci conduce verso la salvezza. Pace bene amici, a risentirci e alla prossima domenica. Pace bene amici, a risentirci e alla prossima domenica.